Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi io e Andrea abbiamo il piacere di avere con noi Tommaso Finadri. Benvenuto Tommaso. Benvenuto. Ciao, grazie. Allora, partiamo subito e fai una breve presentazione di te stesso agli ascoltatori parlando un po' dei tuoi studi e di quello che stai facendo ora. Grazie per avermi ospitato. Io sono... Ho fatto degli studi un pochettino particolari. Ho fatto ingegneria e mentre facevo ingegneria sono riuscito a collimare l'ingegneria con quella che era la mia passione, che è lo sport. Ho sempre fatto sport agonistico fino da piccolo. A 25 anni ho iniziato a giocare a football americano. Mi sono incuriosito con la preparazione atletica. La curiosità poi è diventata sempre più forte fino a che non è diventato quasi un vero proprio lavoro perché ho studiato per fare preparatore atletico. Sono riuscito ad unire ingegneria e preparazione atletica e... con degli amici abbiamo iniziato questo progetto che è diventato poi Beast Technologies. Beast Technologies che è una società, oramai non siamo più start-up perché ci siamo dal 2013. fondamentalmente ci occupiamo di misurazioni nella performance di allenamento della forza. Famoso è il nostro Beast Sensor che è un bracciale che misura la velocità del sollevamento, diciamo la velocità del bilanciere negli allenamenti di forza e in base a quella permette di ottimizzare le performance di allenamento. Perfetto. Perfetto, chiaro. Riguardo all'idea di come è nato Beast, di come è nato tutto il vostro progetto, voi partivate già con delle conoscenze di base, insomma da dov'è che vi è nata questa curiosità di sviluppare questo tipo di tecnologia? Allora, l'idea di questo dispositivo è abbastanza, diciamo... c'erano già gli encoder lineari, no? E ci sono... c'erano da un po'. Quello che non avevo trovato assolutamente era un modo perché questi dispositivi potessero essere effettivamente utilizzati durante l'allenamento in palestra. Io studiavo l'ultimo anno di ingegneria e stavo leggendo un libro di Carmelo Bosco che parla appunto del metodo, del motore di Bosco, della misurazione della potenza e di come ottimizzare gli allenamenti in base alla potenza. Mi sono incuriosito perché da ingegnere capivo l'importanza del metodo ma effettivamente non avrei... cioè non riuscivo a trovare uno strumento che mi consentisse di fare quelle misurazioni e quindi tutto quel libro, il metodo che vedevo spiegato più volte in diversi contesti era poi fondamentalmente inutilizzabile perché si, vabbè, misurare... cioè se ad occhio nudo, diciamo, era difficile poterlo applicare. Ho incominciato a ricercare dispositivi online ho trovato degli encoder lineari gli encoder lineari costavano tutti più di 2000 euro e quindi non li ritenevo accessibili fatto sta un mio compagno di università in quel periodo studiava i MEMS quindi gli accelerometri, i giroscopi, i dispositivi che al tempo non erano assolutamente diffusi stavano per iniziare la loro diffusione adesso sono ovunque e ho unito due cose e ho detto proviamo a utilizzare un accelerometro e un giroscopio e vediamo che cosa succede per un po', diciamo, l'idea è rimasta un'idea appunto fino a che non ho incontrato, cioè non ho incontrato fino a che non ne ho parlato con un mio amico d'infanzia che è Vittorio, Vittorio Endler e abbiamo incominciato a parlare di come potevamo effettivamente sviluppare questo progetto per cui poi, diciamo, tutti avevamo il nostro, lavoravamo, studiavamo, insomma, avevamo i nostri impegni abbiamo incominciato a incontrarci nei weekend abbiamo incominciato a reperire, insomma, i dispositivi e ci siamo chiusi in palestra praticamente nel mio studio dove lavoravo e abbiamo sviluppato il prototipo del progetto Vittorio poi è molto intraprendente e ci ha iscritto a una competizione per start-up a Milano abbiamo vinto quella competizione e, diciamo, poi lì è partita il progetto ufficiale per cui da garage company, mettiamo così o da gruppo, diciamo, di ingegneri si è aggiunto poi un amico di Vittorio, Lucio Pinzoni tutti e tre ingegneri aeronautici e abbiamo praticamente iniziato a lavorare giorno per giorno al progetto fino a che poi non abbiamo cercato i finanziamenti siamo entrati un pochettino nella routine delle start-up e siamo partiti Bene Perfetto Tre menti che si sono unite, tre ingegneri che hanno deciso di Esatto, sicuramente Tra l'altro era un periodo un pochettino siamo stati un pochettino se fossimo partiti probabilmente un anno dopo magari sarebbe stato tardi per certe cose ma avremmo potuto fare leva su tantissime cose che in realtà sono diventate, diciamo, di sono diventate più accessibili proprio mentre noi facevamo il percorso delle start-up dagli acceleratori proprio al mondo delle start-up all'intelligenza artificiale a un sacco di cose che insomma sono state lavoro che abbiamo dovuto che abbiamo dovuto traversare Quindi possiamo dire che siete state le persone giuste al momento giusto? Siamo state le persone giuste al momento giusto, sì Bene, bene Sicuramente è anche una questione di orgoglio nel senso una bella soddisfazione comunque sviluppare un articolo che è competitivo rispetto alla concorrenza e un prodotto made in Italy soprattutto Sì, noi ci consideriamo comunque assolutamente competitivi siamo partiti poi con il botto perché quando siamo partiti con Biz Technologies proprio nel passaggio da piccolo start-up effettiva e quindi per i primi finanziamenti che abbiamo ottenuto c'era di mezzo la Nazionale di Calcio che doveva affrontare il mondiale in Brasile Aspetta Tommaso che si è bloccato un secondo Perché già diciamo la connessione che avevo con questa persona che studiava poi a Boston, all'MIT e mi ha fatto conoscere i MEMS diciamo quando ancora non erano troppo conosciuti poi il fatto che appunto siamo entrati in contatto totalmente in maniera casuale con lo staff della Nazionale Italiana di Calcio sono queste le cose che ci hanno fatto partire e sono nate più o meno per caso probabilmente ci siamo stati bravi anche noi a creare queste opportunità però non successe così Beh, è chiaro, c'è qualcuno che dice che la fortuna bisogna crearsela quindi direi che voi siete stati maestri in questo, tra virgolette Ok, Tommaso, parlaci un po' di più se hai voglia del vostro prodotto nel senso di cosa serve come bisogna utilizzarlo quali sono i dati che vanno presi un po' in questo senso per entrare nel dettaglio Guarda, l'idea dietro a Beast è quella di avere un compagno di allenamento per le esercitazioni per gli allenamenti che riguardano la forza, la potenza esattamente come un cardiofrequenzimetro può esserlo per chi fa allenamento aerobico e l'accelerometro quindi o meglio le IMU quindi Inertial Measurement Units quindi i sensori composti da accelerometro, giroscopio e magnetometro sono un pochettino lo strumento che è più versatile per le misure in questo campo e quindi avere un bracciale che si può connettere col telefono e fornire le indicazioni principali prima di tutto costituisce un aiuto incredibile in termini di motivazione e di feedback perché è grazie alle misure che fa il miglior modo con cui una persona ha di reperire un feedback oggettivo e non quindi soggettivo forse sapete le performance diciamo giornaliere il nostro 100% giornaliero ha delle oscillazioni incredibili solamente in base alla routine che abbiamo una notte dormiamo meglio una notte dormiamo peggio insomma dieta, nutrizione, idratazione semplicemente anche quello che ci capita nella vita insomma e quindi in base a queste oscillazioni diventa veramente difficile tante volte riuscire a quantificare lo sforzo o l'intensità che viene richiesta all'atleta e prodotta dall'atleta ma anche dalla persona normale che si allena la misurazione della velocità di sollevamento che è uno dei dati che Beast fornisce sembra essere uno dei metodi più oggettivi e precisi per avere questo tipo di feedback e quindi ti permette di fare tantissime considerazioni che poi portano l'allenamento ad un livello successivo il primo effetto è sempre quello della motivazione dicevo è un pochettino io in questa situazione racconto sempre l'episodio diciamo del Luna Park quando di solito si va al Luna Park che si trova quella sorta di attrazione col punching ball per cui metti dentro il gettone tiri il cabano al punching ball e esce diciamo il numerello tra amici immediatamente quello di fianco a te caccia dentro il secondo gettone e cerca di fare meglio e così a giro e tutti mettono dentro il gettone almeno due volte perché scatta la competizione scatta diciamo il divertimento ok e quindi si alza l'intensità diciamo si alza l'atmosfera e la stessa cosa succede un pochettino con l'allenamento se uno già se uno fa solamente quello che l'allenamento prescrive diciamo di solito non ottiene diciamo grandi risultati mentre invece se cerchi di metterci energia c'è questo effetto palla di neve per cui avere un feedback di velocità ti consente assolutamente questa cosa per cui alla prima ripetizione di solito soprattutto con mi è capitato spesso con con gli atleti professionisti subito le prime volte ricordo che cercavano immediatamente di fare di fare meglio aspetto motivazionale aspetto poi più diciamo metodologico tecnico legato appunto all'oggettività del dato e quindi della velocità e quindi del velocity based training quindi l'allenamento basato sulla velocità che è un secondo me è un metodo incredibile per prescrivere e regolare autoregolare anche gli allenamenti chiaro assolutamente si può fare una breve spiegazione del concetto di velocity based training e le sue applicazioni tramite lo strumento fondamentalmente il velocity based training consiste nel nel poter prescrivere quelle che sono peso ripetizioni serie tempo di recupero in base alla velocità in base alla velocità di sollevamento di un determinato diciamo di una determinata resistenza nella fase del concentro ok e come funziona beh e allora innanzitutto si prevede che la persona sollevi sempre diciamo alla massima velocità il carico quindi che venga impegnato il massimo sforzo ok durante durante il sollevamento la velocità con cui viene sollevato il carico determina il tipo di forza che viene espresso ci sono su instagram è facile trovare magari qualche qualche post qualche mem con cui si dice che la velocità definisce la forza per esempio uno dei una delle una delle ragioni per cui è nato bis è stato che proprio su qualsiasi libro di metodologia di allenamento si legge della curva di il no curva di il lega la forza espressa con la velocità alla quale questa forza viene espressa o più semplicemente ancora lega il carico con cui il carico che viene spostato alla velocità a cui questo carico viene spostato carichi massimali hanno velocità bassissime e sono quindi utilizzati per esprimere la forza massima carichi minimi consentono velocità altissime diciamo le massime che si possono ottenere e vengono utilizzati per allenare la forza esplosiva la forza veloce nel mezzo ci sono tutta una serie di tipologie di forza che solitamente vengono prescritte dai tecnici tramite percentuale test del massimale percentuale del massimale formula magica per cui al 70% alleni la strength speed al 50% alleni la massima potenza al 40% 30% alleni la speed strength ok o la forza esclusiva e via dicendo l'approccio basato su percentuale appunto soffre del fatto che il nostro massimale quindi il nostro 100% di riferimento varia tantissimo durante le giornate quindi se ho un massimale di panca piana di 100 kg è capace che in un giorno particolarmente sfigato non riuscirò a sollevare gli 80 kg mentre in un giorno buono arriverò anche a 110 115 120 kg questo che cosa fa? fa sì che tutte le forze che ci sono nel mezzo e quindi appunto le percentuali che io utilizzavo per prescrivere l'allenamento siano fortemente influenzate perché se mi baso su i 100 kg di massimale il 75% appunto sono 75 kg se invece sono in una giornata buona quei 75 kg diventano anche 95-100 percentuale 75% di 120 ok in una giornata particolarmente cattiva quei 75 kg 70 kg sono quasi il mio massimale perché mi sollevo a malapena 80 ok e quindi passo da fare un'esercitazione di strength spida un'esercitazione di forza massimale ora recentemente hanno dimostrato degli spagnoli Gonzales Badillo e Sanchez Medina come in realtà l'intensità del sollevamento quindi l'intensità riferita come la percentuale rispetto al carico massimo quindi la percentuale dell'1RM sia assolutamente definita dalla velocità a cui viene sollevato il carico in concentrica questa velocità non cambia mai o meglio cambia molto 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 poco nel tempo e quindi è possibile fare trovare una relazione tra la percentuale del massimale e la velocità e utilizzare poi la velocità che è più stabile per prescrivere il carico morale diciamo succo del discorso per chi magari è meno avvezzo ai numeri facendo delle prove scopro che il mio 70% di panca piana che cercavo precedentemente è sollevato a 0,6 metri al secondo e sebbene il mio massimale cambi nel tempo passerò da 80 90 100 120 progredendo diciamo nel tempo stabilmente la velocità non cambia quindi se io oggi prendo un peso e lo sollevo spingendo al massimo a 0,6 quel peso molto probabilmente oggi è il mio 70% quella che era prima la mia tabella d'allenamento che diceva oggi fai panca piana al 70% del massimale che mi costava un test del massimale diciamo dei calcoli matematici per recuperare appunto il giusto peso oggi diventa in base alla velocità oggi sollevi a 0,6 è molto più è molto più semplice è molto più non molto più ma autoregoli carichi considerando automaticamente quello che è il tuo stato di forma non solo è molto più facile andare a capire qual è la forza specifica che stai allenando perché per il principio di corrispondenza dinamica appunto il gesto sul campo prevede una certa il gesto che si va ad allenare sul campo quindi la performance finale diciamo parlo per gli sportivi ha una determinata velocità ha una determinata espressione la si può andare a ricercare molto più facilmente se le velocità combaciano perfetto quindi possiamo dire che l'assunto di base della logica che sta dietro prima di tutto è che l'atleta deve ricercare un effort massimale a qualunque ripetizione cioè nel senso che se si esatto cioè se si crolla diciamo l'intensità a cui si si esegue il gesto diciamo che si perde diciamo che non è possibile esprimere la massima forza con un'accelerazione che non che non è massimale seconda legge di newton forza uguale massa per accelerazione è logico che un peso molto molto alto rispetto a quanto noi possiamo sollevare sviluppi diciamo velocità basse e accelerazioni molto molto basse l'intento però deve essere sempre quello di alzarlo in maniera il più veloce possibile quindi di imprimere la massima accelerazione possibile stessa cosa dall'altra parte una massa un peso molto molto piccolo consentirà invece velocità più elevate l'intento però deve essere sempre quello di sviluppare la massima accelerazione possibile chiaro chiaro al di là di diciamo al di là di esercizi accessori o diciamo con altri fini rispetto a quello dello sviluppo della forza specifica ok dovrebbe essere diciamo questo dovrebbe essere un assunto che tutti diciamo i preparatori quantomeno potrebbero conoscere è sorprendente invece perché non tutti gli atleti anche in sport di potenza e ad alti livelli applicano questa cosa infatti la maggior parte dei nostri clienti cerca il dispositivo prima ancora che per il velocity based training per l'aspetto motivazionale cioè vogliono fornire agli atleti il feedback visivo istantaneo che permette all'atleta di spingere al massimo perché non è abituato questo è successo tanto in diversi sport più facile con con le donne con con le donne a pallavolo nel basket però è successo ed è ancora oggi uno dei motivi per cui tanti utilizzano e ricercano proprio questo tipo di dispositivi diventa anche una sorta di autoregolazione dell'atleta e l'atleta poi sa anche come alzare un determinato carico ti abitui a certo ti abitui dopo un brevissimo periodo di dimestichezza ti ricordi che quei pesi li sollevi a quelle velocità e quindi sai subito regolarti proprio sul fatto che di solito questo peso qua al di là della sensazione che hai durante il giorno mi sento meglio mi sento peggio diciamo di ieri però sai che i 100 kg salgono a una determinata velocità e quel giorno lì non la stai ottenendo o stai andando oltre quindi è una buona giornata chiaro che secondo me è interessante questa parte del creare una sorta di profilo dell'atleta a seconda del carico e di conseguenza delle velocità a cui quel carico si deve spostare e questo crea come hai detto precedentemente tu un certo grado di coscienza delle capacità che ha che ha l'atleta e quindi si rende subito conto se effettivamente è in una condizione di fatica cioè se è stressato oppure se è la giornata buona e quindi si può si può si può spingere insomma si capisci anche nell'ottica dell'allenamento diciamo individuale per tantissimi sport crei una fotografia molto accurata della della dell'atleta in un ambiente di squadra o comunque se vai a paragonare poi i profili che di cui tu stai parlando quindi la relazione carico velocità con lo stesso esercizio ma di atleti diversi è anche una un'eccellente ricerca per capire diciamo di che cosa ha bisogno la squadra quali sono le caratteristiche di determinate tipologie di atleta e quali invece altre e quali sono poi i bisogni reali delle diciamo delle magari dei gruppi all'interno della squadra ci sono persone che hanno bisogno di allenamenti di forza massima ci sono persone che hanno bisogno di forza di più lavori di forza esplosiva di forza veloce ci sono persone che invece sono più bilanciate e per cui si può quindi agire da tutte e due le parti ok o diciamo in mezzo alla alla curva ok sì è una i profili di carico velocità sono secondo me l'evoluzione diciamo più importante del velocity based training a parte l'aspetto diciamo autoregolativo e saranno quelli che più avranno secondo me evoluzioni nei prossimi anni ma io credo sia interessante anche quello che hai detto in precedenza che dimmi se ho capito bene alla fine l'accelerometro un dispositivo come il vostro permette anche di profilare il massimale dell'atleta quindi non c'è più quella perdita di tempo se vogliamo chiamarla così esagerata o eccessiva per l'atleta per ricercare un RM ma con delle semplici velocità si può calcolare giusto giusto con la velocità e diciamo con una velocità di riferimento il peso diventa un pochettino il punteggio mettiamola nella maniera più semplice possibile quindi con un minimo di esperienza fatta con l'atleta uno spettro di 4-5 sollevamenti fatti diciamo incrementali per una volta ci possono capire quali sono le percent... le... aspetta Tommaso che ti abbiamo perso quindi per esempio aspetta Tommaso ritorna dietro di un paio di parole la faccio diciamo vi faccio un esempio pratico cioè la classica il preparatore atletico che arriva per il primo giorno in una squadra nuova e non conosce gli atleti che ha a disposizione dovresti fare test massimali diciamo a tutti quanti ok e appunto per quello che abbiamo visto prima i test massimali poi avrebbero anche una decisa varianza nel tempo ok con il profilo di carico velocità invece si possono velocemente conoscere quelli che sono i carichi indicativi di ogni giocatore a determinate velocità che sono un pochettino più importanti di altre sono più importanti perché ci danno idea di quelle che sono i carichi appunto che una persona è in grado di sviluppare esprimendo determinate forze per esempio la forza massima a velocità molto molto basse una velocità di riferimento buona può essere 0,5 metri al secondo che è un pochettino la velocità diciamo di ingresso o la velocità massima con cui si riesce a sviluppare la forza massima un'altra velocità è un metro al secondo che nello squat per esempio o nella panca piana ti consente di esprimere il picco di potenza ora chiedendo agli atleti di sollevare il massimo carico possibile a 0,5 metri al secondo e a un metro al secondo si riesce subito a conoscere chi è più forte chi è più potente ok ci saranno persone che sollevano per esempio il proprio peso corporeo a 0,5 una volta e mezzo il proprio peso corporeo a 0,5 e quindi si possono già fare dei gruppi facilmente dall'altra parte a un metro al secondo invece quindi espressione di potenza ci saranno persone che riusciranno ad esprimere metà del peso corporeo il peso corporeo una volta e mezzo il peso corporeo e quindi anche qui è possibile diciamo classificare immediatamente le persone e si hanno proprio dei veri e propri riferimenti perché ogni giorno diciamo è possibile testare queste persone a 0,5 metri al secondo quindi per la forza massima o a un metro al secondo quindi potenza senza bisogno di preparare di predisporre dei veri e propri test semplicemente diciamo alla fine del riscaldamento piuttosto che nella ricerca del carico del giorno ok si passa per quelle per quelle velocità per quei carichi no e quindi il giorno che fai i 100 kg è un giorno magari medio il giorno che ne fai 105 è un giorno buono il giorno che ne fai 95 è un giorno scarso hai già il risparmio per la persona ok dopodiché ci saranno gli atleti diciamo eccellenti che fanno due volte proprio peso corporeo a 0,5 e una volta e mezzo proprio peso corporeo a un metro al secondo ok quindi atleti forti ed esplosivi ci saranno quelli che saranno molto forti che fanno due volte il peso corporeo a 0,5 ma non fanno una volta proprio peso corporeo a un metro al secondo quindi sono sono forti ma non sono potenti e magari c'è la persona contraria che ha una bassa forza massima quindi non solleva due volte il proprio peso corporeo a 0,5 però ha delle buone performance ugualmente a un metro al secondo ovviamente non si potrà sollevare di più un metro al secondo rispetto a 0,5 non si troverà mai quella persona però insomma il i riferimenti sono in questo senso sono molto semplici ecco chiaro poi una cosa secondo me molto interessante è che online ormai è facile trovare la divisione di velocità a seconda del tipo di forza che si vuole allenare quindi ci sono delle buone linee guida la tabella intendi la tabella degli speed range che aveva bravissimo quella noi l'abbiamo inserita direttamente nell'applicazione proprio per quello sì è fondamentale quella sì è fondamentale più che altro è anche resta fondamentale per il consumatore che sia atleta o preparatore atletico per avere diciamo una lettura della situazione con più facilità e quindi con più più facile più semplice più veloce sicuramente incominciano anche ad esserci in letteratura insomma senza andare a cercare diciamo paper di ricerca scientifica ma anche proprio semplicemente libri sull'allenamento incominciano ad esserci tantissimi riferimenti a delle velocità specifiche chiaro per esempio se guardi vabbè è un Westside Barbell per esempio da sempre cita 0,8 come la velocità di quello che dovrebbe essere il Dynamic Effort che è la giornata di allenamento più esplosivo diciamo e 0,8 un pochettino il confine tra la zona cioè è l'ingresso nella strength speed quindi nella zona più pesante del picco di potenza se vai a leggere i libri di Carlo Buzzichelli e di Tudor Bonpac Carlo consiglia spesso l'allenamento per esempio intorno a 0,7 metri al secondo che è abbastanza diciamo in linea con il resto esatto per la forza 0,5 per esempio ci sono ci sono tanti diciamo iniziano ad esserci tanti cioè tanti 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 diverse fonti che incominciano a convergere su determinati valori quindi si può dire che fondamentalmente il velocity based training è in un certo senso il miglioramento della prescrizione delle percentuali perché così è più effettivo è più efficace rispetto a quello che è il naturale la naturale ondulazione della performance dell'atleta durante le varie giornate e quindi forse si può dire che è lo step successivo cioè quello che mancava tra virgolette sì non solo perché poi in realtà le cose divertenti secondo me le cose divertenti succedono poi con serie e ripetizioni e tempo di recupero addirittura nel senso che questo è l'ingresso per cui diciamo già c'è un po' che cioè effettivamente già è è un bel è un bel aiuto ok è una inizia ad essere uno strumento già particolarmente utile toglie un sacco di di dubbi di dubbi di dubbi quello che sono le percentuali ok però quando si fa il passo successivo e quindi si va a vedere ok adesso ho scoperto il carico quante ripetizioni faccio quante serie faccio che tempo di recupero tengo lì inizia ad essere veramente veramente divertente perché laddove avevi delle tabelle come per esempio la tabella di Prilapin no che non so se conoscete ma viene dal dal sollevamento pesi ed è utilizzata nel powerlifting ed era fatta con la velocità ok perché Prilapin l'aveva studiata con un encoder lineare che probabilmente era stato portato dagli alieni in Russia ancora nel 1960 nel senso che era super primitivo ma insomma aveva aveva avuto accesso a questa cosa range di ripetizioni ottimali range di set ottimali tutte queste erano state studiate su un gruppo larghissimo di atleti e con la velocità adesso con la velocità è anche possibile fare delle personalizzazioni è possibile fare delle personalizzazioni in base allo sport che si pratica quindi la stessa persona che si allena per il tennis o il football americano che hanno due tempi e modalità di gioco completamente differenti viene fuori magari un peso la velocità è sempre uguale ok ma ieri ripetizioni sono completamente diverse aspetta Tommaso che si è bloccato un secondo ancora ok adesso ci sei ditevo dove è possibile dove è difficile stimare o prevedere quelle che sono le prescrizioni in sette ripetizioni in realtà è assolutamente facile farlo con la velocità proprio perché nel tempo c'è un decremento della velocità quindi un decremento della performance che è il principale indicatore di fatica l'indicatore di fatica appunto viene chiamato velocity loss perdita di velocità e si può utilizzare la perdita di velocità prima di tutto per capire che cosa succede a livello metabolico secondo lo si può utilizzare proprio come una performance se io so che che il gioco dura 5 secondi o 20 secondi in quel lasso di tempo posso andare a vedere che in quel o in quel numero di ripetizioni diciamo posso andare a vedere quanto è il velocity loss automaticamente so che se il peso rimane quello la velocità cala di meno vuol dire che il mio atleta sta resistendo meglio alla performance e quindi ne nasce proprio cioè si integra anche un aspetto di condition quindi di allenamento della resistenza alla potenza che è specifico per lo sport e per la performance che si va a cercare dall'altra parte se invece si vanno a vedere diciamo gli aspetti metabolici anche qua sempre gli spagnoli di cui i dottori spagnoli di cui parlavo prima quindi ma anche altri che si sono poi hanno proprio studiato come velocity loss drasticamente diversi molto molto bassi 5-10% versus quindi paragonati a velocity loss più marcati 30-40% diciamo hanno studiato quali sono gli effetti diversi di questi tipologie di allenamenti non so se avete mai provato a fare un allenamento con un velocity loss 30-40% io mi rifiuto di farlo nel senso che è un è un discreto ma senso ma sì perché vuol dire che fai la prima serie bene poi stai subendo tutte le altre immagina cioè se tu pensi se tu pensi a diciamo a carichi importanti quindi non so un 80-85% di squat parti da 0,5 metri al secondo un 30% 40% di velocity loss vuol dire che praticamente perdi il 40% della velocità con cui sei partito quindi da 0,5 ti fermi solamente quando sei arrivato a 0,3 fondamentalmente sei andato ad esaurimento perché la velocità diciamo di un massimale è molto molto vicina quindi hai dato tutto quello che potevi avere e questa è una cosa che ancora si fa comunque nel senso che le classiche serie da 8-10 che c'erano una volta con l'80% andavano ad esaurimento ok erano pesantissime ma sono più comuni se ci pensi invece per la potenza parti da un metro al secondo e devi fermarti quando arrivi a 0,6 io mi ricordo ancora la prima volta che ho provato questa cosa perché stavamo testando proprio uno dei nostri prototipi e non finiva più non finiva più cioè sono allenamenti che cambia completamente proprio il cambia completamente il livello dell'allenamento primo perché spingi molto di più all'inizio quando invece psicologicamente sei tenuto a rispettare a regolare lo sforzo secondo perché comunque è un salto veramente forte idem il recupero esatto se qualcuno di voi se qualcuno di voi utilizza il clustering come metodo per diciamo per sette ripetizioni quindi invece che diciamo non so come dire l'italiano ragazzi scusate semplicemente se al posto di fare un 5x3 ripetizioni di fila faccio una ripetizione 15 secondi una ripetizione 15 o poi il tempo le ripetizioni vengono un pochettino vengono gestite diversamente vengono gestite temporalmente in maniera diversa tantissime persone che utilizzano il velocity base training pian pianino convergono verso il centering perché c'è un'efficienza molto superiore nell'allenamento fare 3x8 fare 3x6 cioè mi sembra che oramai sia diciamo abbastanza comune sui social network o comunque su leggere su blog su diciamo su elettro come fare lo stesso numero di ripetizioni diviso in più serie e meno ripetizioni sia più tante volte più efficace soprattutto nell'allenamento della preparazione atletica fare 24 ripetizioni per esempio con un 3x8 o con un 8x3 è molto diverso con lo stesso peso ovviamente con la velocità si vede proprio questo 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 fattore proprio perché la differenza grossa è che nel 3x8 le ultime 4 ripetizioni delle tre serie hanno una velocità che cala molto e quindi un 3x8 un metro al secondo uso numeri diciamo cerco di usare i numeri più semplici possibili perché tante volte insomma qua mi perdo l'audience diciamo un 3x8 un metro al secondo finisce che appunto 16 ripetizioni quindi due terze delle ripetizioni sono fatte al metro al secondo le ultime 4 c'è un calo drastico della diciamo della performance e quindi vengono fatte 0,9 0,8 ok 0,7 in un 8x3 tutte quelle 24 ripetizioni sono fatte al metro al secondo e quindi quella tipologia di forza è allenata 24 volte su 24 invece che 16 su 24 ok ora il passaggio successivo è che nel fare le 8 serie da 3 uno si rende conto che poi alla fine fare il minuto di recupero o fare 45 secondi di recupero o fare i 30 secondi di recupero ok dipende effettivamente o da vincoli dati dallo sport perché quella è la pausa che viene rispettata nello sport oppure uno cerca di farli nel minor tempo possibile per esempio e quindi cluster training dove invece che fare magari ripetizioni ogni cioè consecutive faccio una ripetizione ogni 10 secondi e faccio 24 ripetizioni di fila praticamente oppure faccio gruppi di tot ripetizioni che mi consentono di mantenere una performance costante questo dipende dallo sport dipende dai vincoli diciamo dello sport io per esempio ho iniziato a investigare su questa cosa perché facendo le 8 serie da 3 con un minuto di recupero facevo diciamo tenevo sempre diciamo gli stessi valori accorciando i tempi di recupero leggermente quindi passando da un minuto a 45 secondi addirittura ho visto come si mantenevo un effetto di potenziamento per cui dopo un paio di serie addirittura salivo con la velocità un pochettino allora ho iniziato ad accorciare i tempi di recupero e a un certo punto mi sono anche detto vediamo come riesco a fare diciamo vediamo di portarlo all'estremo dall'altro lato quindi accorciamo i più possibili tempi di recupero e col tempo sono riuscito ad arrivare dai 40 ai 30 ai 20 secondi per cui adesso come riferimento per il mio sport quindi per il football americano so che quando sono in forma diciamo o meglio nel periodo di competizioni voglio fare le 8 serie da 3 con 20 secondi di recupero andando al metro al secondo con i 100 kg per esempio chiaro molto interessante questa ultima parte sull'effetto di potenziazione insomma che hai riscontrato tra le tra le singole alzate o mini gruppi di 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 evidentemente c'è un c'è un lasso di tempo ottimale no per cui per un chiaro abbiamo perso un secondo Tommaso cara sì scusa mi dicevi che si è si è bloccato un secondino perdona si riesce a scoprire si riescono a scoprire tutti questi parametri ottimali che sono diversi diciamo tra tutti quanti perché uno di noi funziona poi diversamente e però si riescono a si riesce a spingere ancora di più sull'allenamento perfetto benissimo questa parte quindi diciamo facendo una una nota conclusiva se ci puoi dare una una diciamo un insight su quello che potrebbe essere un allenamento vengono stabilite delle velocità a cui bisogna mantenere e con un certo grado di di velocity loss come hai detto oltre al quale si può decidere si può decidere se interrompere l'alzata oppure se andare a lavorare altre qualità giusto? giusto giusto in generale la prescrizione degli allenamenti diventa abbastanza semplice quando si sono diciamo si è presa familiarità con i valori diciamo più comuni di riferimento nella squat nella panca e nello stack quindi nei big three sono molto molto simili anche questi valori quindi ci si mette davvero poco a a imparare ecco chiaro chiaro e stessa cosa si può applicare su cioè quello che voglio chiedere è se c'è una grande variabilità tra magari esercizi di potenza cioè se c'è un maggior grado visto che come hai detto squat panca e stack più o meno hanno una sorta di più o meno un profilo simile a livello di velocità nel caso in cui si voglia lavorare le forze massimali come ci si comporta invece sulla parte più di potenza intendi quindi gli esercizi per esempio olimpici bravissimi esercizi olimpici squat jump e varie derivate impari immediatamente come diciamo determinati esercizi abbiano dei range di velocità si fa veramente fatica ad uscire da quei range di velocità e quindi ad ogni esercizio o meglio io incomincio a parlare di movimento più che di esercizio perché poi alla fine è quello che conta ma come ogni movimento abbia un range appunto di velocità e quindi sia in grado di sviluppare bene determinate se prendete per esempio la girata solamente la girata quindi facciamo il power clean ok quindi la girata con ricevendo il bilancio diciamo in alto non in accosciata ma a gambe tese insomma è difficile scendere sotto a 0,7 metri al secondo è difficile fare un power clean che resti sotto ma proprio per la natura biomeccanica del gesto dice che quindi è difficile che nel senso che poi inizia a diventare una chirata al mento un po' brutta insomma cioè che viene un po' brutta anche da vedere mentre invece per esempio lo strappo quindi facciamo un power snatch è ancora più veloce quindi è difficile scendere sotto al metro al secondo chiaro chiaro assolutamente però beh è molto interessante valutare tutte le diciamo anche la tipologia di esercizi esatto sono tipologie di esercizi che non vanno bene per allenare la forza massima o meglio sono meno adatte per allenare la forza massima sono molto più adatte per allenare la forza esplosiva tre parti della forza dall'altro punto di vista ovviamente con lo squat è difficile senza saltare superare gli 1,4 metri al secondo ok se trovate una persona che è in grado di squat magari da un box quindi senza diciamo l'elasticità del movimento un peso importante a 1,3 a 1,4 metri al secondo siete di fronte a un atleta che insomma ha parecchio potenziale c'è 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 come dire c'è delle belle gambe nel senso che è un bel un bel fucile insomma la stessa cosa la stessa cosa ti insegna per esempio come invece invece che prendere in considerazione il power clean prendi in considerazione un clean diciamo pieno quindi tirata con la ricezione in squat e poi anche il front squat quindi la risalita allora diventa un esercizio in cui alleni la prima parte in maniera molto esplosiva e una seconda parte in cui alcuni riescono ad allenare la forza massima perché il front squat può essere anche molto molto lento piuttosto che insomma altre altre forme di di forza chiaro un'altra domanda che vorrei farti riguarda prima ci hai accennato ci hai parlato un pochino del discorso dei feedback e dei cue che vengono che lo strumento può dare all'atleta e al preparatore e secondo me su questo topic ci sono tanti varie tipologie di studi per quanto riguarda l'augmented feedback quindi feedback che vengono forniti istantaneamente o feedback che vengono forniti a posteriori oppure non vengono forniti feedback ci sono diverse diverse diciamo linee di pensiero studi riguardo al fatto che l'atleta ha un maggiore coinvolgimento che se vede il risultato della singola alzata piuttosto che magari non lo vede cosa insomma dici un po' qual è la tua opinione e qual è magari forse il metodo che utilizzi di più con i tuoi atleti riguardo a fornire il feedback e i cue e le informazioni allora noi con Beast come prodotto abbiamo scelto in maniera pesante di fornire l'instant live feature quindi tutto il prodotto tutti gli algoritmi che girano sotto diciamo che girano sotto il software sono fatti per fornire i dati in maniera istantanea questo perché io credo che sia fondamentale ricevere questo tipo di feedback istantaneamente sia per la motivazione sia per il fatto che se devo aspettare di finire la serie per ricevere i valori di velocità rischio di buttare via la serie che ho fatto ok e quindi ritengo che sia fondamentale per questo tipo di dispositivi avere l'instant live feedback questo ci costa tantissimo in termini di sviluppo perché con gli accelerometri fare questo tipo di diciamo di misurazioni dal vivo è difficilissimo infatti è costante la diatriba tra encoder lineare e accelerometro l'encoder lineare ha il vantaggio che il dato di velocità è misurato direttamente insomma o meglio non è la misura che non è affetta da da nessun tipo di rumore di disturbo verso un accelerometro in cui il dato è stimato da Algorit come allenatore ritengo che ho visto invece scelte diverse anche c'è l'allenatore che assolutamente ovviamente abbraccia questo tipo di scelta e quindi dà direttamente all'atleta la misura visibile noi per questo abbiamo fatto anche una leaderboard che è disponibile con i prodotti per esempio di più alta gamma quelli per le squadre e quindi gli strength pack per cui tutti gli atleti i dati di tutti i beast vengono raccolti e messi a disposizione su una pagina internet e tutti gli atleti sono un pochettino in competizione anche se non sollevano allo stesso rack dall'altra parte c'è anche il ho visto anche tanti allenatori che invece non mettono a disposizione la misura all'atleta ma la tengono solamente per loro stessi per semplicemente capire se stanno utilizzando il peso o meno questo perché in alcuni contesti poi l'atleta pensa troppo alla spinta e troppo poco alla tecnica e quindi diciamo poi l'esecuzione del gesto ne viene meno e quindi a catena diciamo cadono determinate cose piuttosto che ho visto anche allenatori in campo femminile che hanno fatto che hanno diciamo che prendono la curiosa scelta di non mostrare proprio affatto le misurazioni agli atleti questo è successo soprattutto con atleti con atlete donne perché ritenevano che fossero diciamo psicologicamente troppo influenzate da questa cosa e non volevano diciamo che l'atleta soffrisse di alti e di bassi troppo marcati insomma e quindi fondamentalmente si teneva si teneva per sé i dati non ho diciamo io personalmente quando posso metto cioè metto a disposizione credo che sia diciamo abbastanza cioè che ci siano tantissimi pro e pochi contro ecco il motivo per cui non faccio cioè il motivo per cui non mi limito diciamo eventualmente nella nell'esposizione è semplicemente che uno perde completamente di vista la tecnica in esercizi che magari sono un pochettino più complessi una cosa in cui secondo me aiuta tantissimo soprattutto in questo periodo in questo ultimo anno dove ahimè siamo tutti chiusi in casa è difficile allenare di persona è l'allenamento a distanza nel senso che la prescrizione dei carichi io alleno i miei compagni di squadra i miei diciamo i miei amici nel football americano da otto anni e non sempre ho anzi ho poco avuto l'opportunità di allenarli diciamo con me perché io ero a Milano e loro erano a Roma per esempio secondo me non esiste un metodo così facile così efficace come la velocità per prescrivere i carichi nel senso che le percentuali che si utilizzavano che io dico si utilizzavano ma se lasci l'atleta introdotto indipendente in queste cose succedono spesso dei mezzi disastri sessioni di allenamento completamente persi con la velocità sei sicuro che non ne sbagli una chiaro ti permette di standardizzare diciamo di fornire un un programma più facile da da attuare e di non lasciare che l'atleta come appena detto si faccia prendere la mano fondamentalmente e magari comunque la classica cosa che succede esatto l'atleta che fai cioè è la situazione all'80% in cui no l'ego dell'atleta prende il sopravvento e quel giorno non ne hai però ne devi avere perché non è possibile che non ce li hai quindi quello lo sollevi e anche se lo sollevi a un centimetro all'ora ok fai lo stesso quel peso perché sai che la volta scorsa hai fatto cioè l'hai sollevato no chiaro chiaro assolutamente ma infatti un po' se posso è un po' diciamo la critica che viene mossa al velocity base training che qualche qualche atleta più sport di forza dove magari si ha questa attitudine nel diciamo passatemi il termine tirare le alzate che bisogna insomma tirare fuori sempre il meglio di sé in qualunque giornata la vede la vede la vede un po' di di cattivo occhio questo un po' immagino che sia diciamo una 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 vostra una vostra sfida tra virgolette cioè educare anche è vero io posso solamente cioè raccontare la la mia esperienza nel senso che ancora una volta è personale ok i miei diari di allenamento da settembre a novembre tutti gli anni prima che utilizzassi il velocity based training alla fine avevano verso novembre una settimana con scritto sono troppo stanco scarico non ce la faccio più ho ridotto i carichi non mi sono allenato e via dicendo perché perché tenevo il programma d'allenamento senza accorgermi che magari esageravo non recuperavo fino a che mi rendevo conto che avevo più giovamento nel fermarmi e recuperare piuttosto che da quando uso il velocity based training se perdo una sessione di allenamento è perché non ce la faccio con il tempo ok ad allenarmi ho aumentato la frequenza degli allenamenti quando è possibile ho diminuito il tempo necessario per allenarmi ed è incredibilmente più facile come preparatore come allenatore prescrivere i carichi perché là dove veramente dovevi pensare decidere adesso vada il programma d'allenamento fondamentalmente è già fatto per una buona parte si tratta di capire i movimenti capire la reazione dell'atleta al programma sei molto più certo dello stimolo che stai dando ok e quindi hai un'immediata anche cioè hai una più facile lettura di quella che è la reazione allo stimolo che dai se tu sei sicuro che lo stimolo è sempre quello ok la reazione della persona è leggibile se non sai lo stimolo che dai è difficile poi interpretare la reazione della della persona assolutamente molto molto interessante quest'ultima parte secondo me è molto ormai oggi giorno è uno strumento che è quasi fondamentale nel determinare la prestazione dell'atleta e il grado di prontezza dell'atleta stasso se cioè il velocity based training non è la totalità dei metodi di allenamento assolutamente ci sono ci sono diversissime metodologie che sono valide per l'allenamento che non sono misurabili tramite la velocità ok però rimane che per quello che riguarda lo sforzo dinamico è la soluzione a quello che diciamo un tecnico dovrebbe fare perfetto bene Ricky passiamo alla prossima domanda una cosa secondo me interessante per quanto riguarda sempre il velocity based training e diciamo la variabilità della velocità con cui si eseguono gli esercizi è appunto la predizione di un miglioramento dei termini di massimale come dicevamo prima non c'è più bisogno di dover testare e quindi dover fare tutto il protocollo riscaldamento di riscaldamento di salire in progressione con i carichi ma si può determinare se c'è stato un miglioramento del massimale tramite la velocità spiegaci un pochino questa cosa come funziona insomma la predizione dell'ipotetico nuovo massimale allora vi faccio un esempio pratico che alla fine può essere la è la maniera più semplice per spiegare queste cose ora prendete lo squat o la panca piana che sono esercizi che hanno un range di velocità molto molto simile facciamo lo semplifichiamo ancora perché diciamo prendiamo dei valori molto molto facili da ricordare allora lo squat e la panca vanno da 0,3 metri al secondo a facciamo 1,3 metri al secondo giusto per prendere quello che è un metro al secondo di range quindi il bilanciere solamente lo sposto a 1,3 ok il massimale lo sposto a 0,3 cioè un metro al secondo di differenza ok tra questi carichi la relazione tra il carico e la velocità è lineare quindi io posso tirare una retta che predice a che velocità muoverò determinato carico come utilizzo questa come utilizzo questo concetto questa relazione senza esagerare con diciamo i carichi stando lontano dal massimale io posso prendere un 80% quindi 0,5 posso prendere un 50% quindi un metro al secondo più o meno un pochettino meno 0,9 e posso prendere un carico molto molto leggero ok il bilanciere è quindi 1,3 metro al secondo ho queste tre velocità di riferimento 0,5 0,9 1,3 ok ok di solito ti abbiamo perso un secondo scusaci riesci a fare un piccolo rewind abbiamo queste tre velocità di riferimento vado dalla più veloce quindi carico più basso 1,3 0,9 mentre al secondo e 0,5 metri al secondo ok qualsiasi sia il carico che io vado a sollevare quel giorno qualsiasi tipo di allenamento io voglio fare quel giorno farò un warm up e salirò col carico progressivamente e quindi è facile che io incontri queste tre velocità ok allora queste tre velocità mi possono servire come fari per misurare la prontezza la readiness ok dell'atleta quel giorno 1,3 è una velocità relativamente alta ed è un'espressione di forza esplosiva il carico che sposto a quella velocità mi dice la prontezza che quel giorno l'atleta dimostra per quanto riguarda la forza esplosiva 0,9 è una velocità che è molto molto vicina al picco di potenza 0,5 dicevo all'inizio di questo podcast è l'ingresso nella forza massima e quindi io facendo il riscaldamento diciamo con tre pesi so ho un'informazione sulla forza esplosiva ho un'informazione sulla potenza e ho un'informazione sulla forza massima può darsi che in base diciamo alle condizioni dell'atleta ci siano dei giorni in cui la forza massima è buona la forza esplosiva è buona quindi anche la potenza di solito è buona ok ci sono dei giorni in cui magari l'atleta è pronto per spostare carichi esplosivi ma un pochettino meno di forza massima viceversa siccome questa relazione appunto e quindi il primo diciamo il primo utilizzo che si fa proprio cioè il più pratico possibile è proprio questa misura di readiness ok invece che tre valori se ne possono prendere anche due ok piuttosto che più difficile ma anche uno solo ok tante volte funziona comunque tutto ciò è appunto relativo anche al massimale nel senso che c'è proprio una relazione matematica lineare quindi una retta se cambiano questi valori cambierà il massimo il massimale altro non è che una stima del carico spostato ha una velocità ben specifica nel caso dello squat è intorno agli 0,3 metri al secondo nel caso della panca simile nel caso degli stacchi è un pochettino sotto per cui un metodo molto valido poi per analizzare più nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche di un atleta può essere proprio quello di stilare un profilo carico velocità profilo carico velocità che si fa con appunto dei carichi incrementali si misura la velocità a cui è stato spostato un determinato peso prendono dei pesi che siano distanti sia in termini di peso che anche di velocità espressa e poi si fa un'interpolazione lineare quindi si traccia la retta che passa più vicina possibile alle coppie di punti che si sono trovati a quel punto si può stimare per esempio la performance della teta in quell'esercizio qualsiasi sia la velocità qualsiasi sia il carico perché è sufficiente entrare diciamo la retta a un'equazione ok semplicemente si mette il valore del carico per esempio e la retta darà la velocità attesa piuttosto che il contrario per andare un pochettino più nel anche nel tecnico poi diciamo il concetto è quello dell'area sotto alla curva quindi dell'area immaginate la retta che si crea a un triangolo massimale e velocità massima mettiamola quindi la velocità massima che riesce a esprimere con un carico nullo questo triangolo ha un'area maggiore maggiore è la capacità del soggetto di esprimere potenza quindi diciamo geometria di base massimale per velocità massima diviso due mi dà una stima della potenza massima che questa persona è in grado di esprimere se il massimale aumenta ma la velocità massima diminuisce potrebbe essere diciamo un problema per le performance esplosive della persona viceversa se la velocità aumenta ma la forza massima decresce c'è un calo di forza massima di solito quello che si cerca se conoscete il metodo coniugato funziona proprio su questo tipo di a fine funziona su questo tipo di concetto faccio una sessione in cui alleno la forza massima quindi tiro martellata alla curva da questo lato spero che di qua rimanga tutto fermo alla volta dopo faccio una sessione esplosiva in modo che tiro una martellata in qua alla curva una martellata in qua una martellata in qua una martellata in qua una martellata in qua la potenza praticamente continua a salire la forza massima continua a salire la forza esplosiva continua a salire il concetto è un pochettino quello ed è diciamo la reazione del soggetto a questo tipo di allenamento è anche il motivo per cui è sempre utile secondo me allenare sempre due velocità diverse perfetto bellissimo fantastico erano esattamente quello che volevamo volevamo sapere insomma e quando hai a disposizione cioè questi sono secondo me sono tutti ragionamenti che se applichi diciamo questi metodi senza dati senza misurazioni devi avere un determinato intuito una determinata intelligenza per per arrivarci per maturarli e ci impieghi tanto ci impieghi tanto se hai a disposizione i numeri vengono immediati devi avere una buona dimestichezza con devi avere una buona dimestichezza con i numeri chiaro assolutamente poi riputo che sia uno strumento che perché non averlo nel senso che comunque anche la capacità di lettura dell'allenatore essendo noi esseri umani c'è un certo grado di errore per forza di cose il dato invece il dato cioè il numero è questo come ogni tecnico ha la calcolatrice o diciamo lo strumento uno strumento che misura la velocità è diciamo uno strumento essenziale del preparatore atletico sicuro di tanti anche personal trainer che applicano determinate metodologie sicuramente grazie a tutti